Da oggi anche in Irpinia i cittadini in possesso di determinati requisiti possono presentare la richiesta per il SIA, il sostegno per l'inclusione attiva al proprio comune di residenza. La misura prevede l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate. Possono presentare l'istanza i cittadini italiani o stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lungo periodo, coloro che sono residenti in Italia da almeno due anni, i nuclei familiari con la presenza di almeno un componente minorenne o un disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata, coloro che possiedono un ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro e non beneficiano di altri trattamenti economici superiori a 600 euro mensili. Si tratta di una misura concreta per far emergere la povertà reale delle famiglie e finalizzata soprattutto a creare percorsi di inserimento nel mondo del lavoro, spiega il direttore del Consorzio A5, Carmine De Blasio, che ha presentato la misura stamattina in provincia con la consigliera alle pari opportunità, Domenica Lomazzo. Si articola in due direzioni, un contributo passivo e una partecipazione attiva. Il contributo passivo è la famiglia che ha i requisiti che da oggi può presentare la domanda, ha i requisiti che sono previsti nella misura, presenta la domanda, se l'esito è buono riceverà il contributo economico attraverso una carta prepagata. Il contributo varia dagli 80 minimo ai 400 euro in base al numero dei componenti del nucleo familiare, ma insieme al contributo economico la famiglia che lo riceve si impegna a seguire anche un percorso sociale di attivazione di impegno per evitare, per provare a superare le condizioni di disagio che hanno determinato proprio il bisogno in quella famiglia. Grazie. 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 Grazie.